Annunciata in conferenza stampa, svoltasi presso l'hotel Hermitage di Silvi, la nomina presidente onorario dell'Aran Cucine Panthers Roseto, il dottor Fabrizio Capone. Un uomo di lunga esperienza nello sport rosetano negli ultimi anni, stato anche medico della squadra di basket di serie A2 maschile. Capone viene dal mondo della sanità e ha incentrato la sua attività non solo nello sport, ma anche nella cura dell'alimentazione e nella prevenzione. È un riconoscimento importante che mi onora, io collaboro con questa società da alcuni anni, sono sempre stato dietro le quinte, però ho sempre dato una mano quando avevano bisogno e sono felice che questa attività sia stata riconosciuta da questa nomina. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro noi vogliamo portare avanti un discorso un po' diverso che si fa nello sport, non solo competizione, non solo vincere il campionato, che è la cosa sicuramente più importante, ma anche portare un messaggio di prevenzione e di salute. Dire che facendo lo sport, alimentandosi bene e stando bene in salute, si prevengono le malattie. In questo caso, siccome è una squadra femminile, abbiamo puntato sulla prevenzione del tumore della mammella e quindi faremo delle iniziative in questo senso. Il Covid ha allontanato un po' i ragazzi dal mondo dello sport? Il Covid ha allontanato i ragazzi dal mondo dello sport, ma soprattutto ha allontanato le persone, cioè le persone non si incontrano più o si incontrano molto meno. Quindi dobbiamo tornare a vivere con gioia lo sport e a vivere con gioia tutti i momenti di ritrovo che i ragazzi possono avere, senza dimenticare che comunque devono avere una vita sana, devono alimentarsi bene per prevenire, come dicevamo prima, le malattie. Per la squadra certamente rappresenta un passaggio importantissimo nell'ambito della prevenzione delle malattie, di quel percorso che è stato iniziato dal dottore e che adesso avrà un riverbero anche sulla squadra. Aran è molto vicino a questa disciplina, comunque portare avanti un progetto con ragazze così giovani fa ben sperare anche per il futuro. Certo, i valori di Aran sono accomunati ai valori di Panthers Roseto, la famiglia, la passione e la forza della gioventù. Quest'anno anche i risultati stanno arrivando e quindi siamo orgogliosi di essere sponsor e di dare supporto a questa bellissima realtà sportiva. È stato uno degli investimenti di quest'anno, il settore giovanile, siamo cresciuti in maniera molto importante, ormai le tesserate si avvicinano alle tre cifre, sono quindi quasi un centinaio e siamo molto contenti, perché poi il trend è assolutamente positivo e ci sono nuove ragazze praticamente con cadenza quasi settimanale. Quindi è uno sport che per Roseto ha una storia, perché ci sono ormai più di 100 anni di sport, e anche nella femminile stiamo assistendo e stiamo creando insieme a tutto il team un fenomeno molto importante. Si pensa già al futuro che oramai è prossimo? Sì, sì, sì. In realtà il basket a Roseto non si ferma mai, perché l'estate si gioca al mare. Anticipo insomma che avremo un campo tutto Panthers insieme a uno stabilimento, faremo tutta una serie di attività a partire da un torneo nel ponte del 2 giugno. Avere le ragazze non significa solo lavorare con loro da settembre a maggio o giugno, ma significa seguirli a 360 gradi anche durante il periodo estivo. E' quello l'obiettivo che ci siamo dati, quello di esserci sempre, sia per i genitori che per loro. E quindi diciamo che la stagione finisce, ma in realtà parte quella estiva e poi comincerà quella invernale con tante novità.